Secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie! Benzina finita! Vabbè lo tornava a nudo Oddio! Aiuto! Sant'io! Rodrigo! Rodrigo! Eh voglio perchè mi son bugato! Mi son bugato Sono una sineretta guarda Ma che sto scendo? Così a caso? Marona Ieri tutto a posto? Antonio Lugno Se sto tornando su questo server vuol dire che gli altri server mi fanno un po' cagare Ecco qua Tranne è gravo che sono brave persone Ciao ragazzi Arrivederci! Eccolo! Eccolo Tutto a posto Tutto a posto ci facciamo pure una botta Peter Allora C'ho queste... Ah oggi mangio Delle belle zucchine Ovviamente congelate signori Ormai si sa... Si sa congelate no? C'è... Oh Oh ma sei tutto spruzzi 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 Eccolo qua Eccolo qua Ecco li qua Eccolo qua Eccolo qua Intanto... Si becca la denuncia Intanto si becca la denuncia Eh! Intanto si becca la denuncia Me ne f*** proprio Ora fanno un boccino Fammi un boccino eh! E poi rimanere pure se ti piace Eh! Di coccodillo No coccodillo 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 Di coccodillo Ciao belli vaglioni A domani Eschegdit Enjoy Amasso vuoi salutare? No Eh Brava fattelo dare Questa ti fai dare? Oh mannaccio Diretto mamma mia Mo sto uscendo di spita Oh sono le scese di Sì Sì Mi capivi 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 Ma nonno E ma come faccio Chi sei un spirito di panza tosto E' stato bellissimo E' stato bellissimo Magistere la salsiccia E' buona anche da mangiare Ma chiù La carne Sta costando un botto In questo periodo Mamma mia Fra E' una cosa che salsiccia E' buona anche da mangiare E' buona anche da mangiare Ma non è possibile Ma non è possibile Frate E se io ti banno Faccio io E' buona Tu dici Tu dici Ma ne fanno proprio E' Tengo il potere la prossima volta che tu vedi perché mi hai cagato il cazzo mi hai fatto un bucchino ci saluto tu non stai buona la capa perché non stai buona la capa c'è cagato il cazzo eh falso maglietta lello che è chi? maglietta lello che è chi? comunque vabbè ho sentito però posso a posto falso perché il soppasso è vietato di notte scusate ma che cazzo dici è impossibile ma comunque basta ragionare sulle domande il soppasso è vietato di notte è sbagliato aspettate un attimo ma chi ha fatto la clip lo banno su twitch ve lo dico chi ha fatto la clip invece lo banno su twitch aspettate guarda oh chi t'ha morto ho sentito un chi t'ha morto fa adesso la clip ilos non hai già approfittato come non uscire no? a me si può mangi e cazzo mi riceve il cazzo io penso che la continuava fa la clip buono grazie per il bit bella salsiccia polo e tacchino alexa spegni tutte le luci ok stop alexa raccontami una barzelletta con che dolce te con i cannoncini alexa accendi tutte le luci no ok alexa accendi tutte le luci muoviti alexa accendi tutte le luci ok ok